Io con Gianluca, che è stato mio alunno, parlavamo in sardo, nella lingua del cuore. E allora io a nome, a nomene, di Sarmamar di Urune, di Sarmamar di Barbagia, di Sarmamar di tutto il suo mondo, l'inaro va in buon'ora, coroizzo! Grazie mille. Un momento nel cortile e hanno raggiunto quindi l'edificio scolastico. Sono stati tanti gli interventi a sottolineare l'insensatezza di un atto, che rimane ancora senza spiegazione, se mai ce ne possa essere una, ad un omicidio che toglie la vita ad un ragazzo. Preside, insegnanti, compagni di classe, tutti hanno voluto lasciare un messaggio di saluto a Gianluca e alla sua famiglia. Un minuto di silenzio ha suggellato questo momento di rivolta civile dei ragazzi per una barbarie che non sembra voler abbandonare questo territorio. Quindi i ragazzi hanno raggiunto il San Francesco per rendere l'ultimo omaggio a Gianluca. Intanto le indagini proseguono a pieno ritmo. I carabinieri, coordinati dalla procura di Nuoro, stanno sentendo le persone che hanno assistito all'agguato. Si scava anche nel passato del giovane per capire cosa possa aver scatenato i killer. Gli assassini, come confermato dall'autopsia, hanno esploso tre colpi di fucile che hanno raggiunto il giovane al fianco e alla testa, non lasciandogli scampo. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro e dalla compagnia dei Bitti. Non c'è una pista privilegiata, ma gli inquirenti non tralasciano alcun elemento che possa condurre all'individuazione degli assassini di Gianluca Monni.